no, non è tirata, fa lo schieno e' subito dunque nella lista dei cattivi quello schieno ma che vuole ma questo è facissimo da sognare calcio di posizione è da buona posizione possono passare dai giocatori se lo sfrutterò che schiena e' ritorno al gol ha dovuto solo metterci la testa con un braccio rotto con la fisica lascia diseguare col braccio rotto adesso si può dire che l'hai già visto ora anche con la testa adesso si che ti puoi fare le canne e' che cacchio